Termina senza rete la super sfida del città degli ulivi tra Bitonto e Odace e Cerignola e in copertina ci va la chance fallita dal centravanti neroverde Santoro in avvio di secondo tempo. Bitonto che resta a meno 3 dalla vetta, ora condivisa da Francavilla e appunto Cerignola a 31 punti. In casa Bitonto sono Out, Biason, Silvio Colelle e Canutè, fiducia al 4-2-3-1, Martellone all'esordio in campionato tra i pali, Petta e il terzino destro Turitto è alla prima da titolare dopo il ritorno in rosa di qualche giorno fa. 4-3-3 per pazienza, Maltese affianca Agnelli e Tascone a centrocampo, il bitontino Palazzo guida l'attacco, partono in panchina a lungo a Scic e Malcore. Dopo una fase iniziale di studio con il Cerignola pericoloso sugli sviluppi di due calci d'angolo c'è anche il primo pericolo griffato Bitonto, Colella stacca di testa ma il pallone finisce alto sugli sviluppi di una punizione calciata sulla barriera da Lattanzio e raccolta dallo stesso capitano del bitonto. Replica firmata da Mincica, all'esterno sfrutta uno scivolone di Guarnaccia ma sull'opposizione di Colella calcia centralmente e non impensierisce Martellone. Brividi al 28esimo, lo iodice si procura ed esegue una punizione a giro dalla sua mattonella, pallone che accherezza la parte esterna della rete. Il bitonto non ci sta, sponda di Santoro, sinistro di Lattanzio, pallone lontano dallo specchio della porta, ultima chance di un primo tempo che scivola via dopo due minuti di recupero. Si riparte con gli stessi effettivi e con un'occasione colossale per Santoro, uscita scriteriata del portiere Ofantino Tricarico, pallone vagante in area e destro a porta vuota di Santoro che tocca la parte alta della traversa e conclude la sua corsa sul fondo. L'occasione dà vigore al bitonto, azione avvolgente chiusa da una botta da fuori aria di Manzo, Tricarico blocca senza Patemi, il Cerignola però è presente, il sinistro di Mincica chiama, Martellone risponde senza affannarsi più di tanto, ci prova poi proprio Danna ma il suo tiro cross da sinistra è innocuo per l'estremo difensore dell'audace. Apri pista, un finale senza emozioni che decreta lo 0-0 finale, bitonto che conferma il periodo di difficoltà con 5 punti nelle ultime 6 gare, festeggia due mesi da imbattuto il Cerignola al dodicesimo risultato utile di fila, coppa inclusa e senza gol al passivo negli ultimi quattro turni di campionato, domenica si torna in campo con mariglianese, bitonto e audace rotonda.